... C'è stato uno dei movimenti che secondo me e secondo molti anche di voi hanno visto nei movimenti in questi giorni anche su Internet, sulla nostra chat, che ha cambiato un po' la sensazione, la temperatura della campagna elettorale. A noi non piace neanche molto parlare di campagna elettorale, ci piace parlare con le persone, cercare di capire per te e non spesso che sia il tuo uso. Il movimento c'è lo stesso, e se ne esigna gli indicano gli altri, non c'è per i difetti, non c'è per i difetti, non c'è per i difetti.